Lezione 23 Per il Duty Free come devo fare? Per il Duty Free come devo fare? La prego di compilare questo modulo Ecco fatto Porti questa copia all'ufficio del Duty Free, al centro o all'aeroporto Le faranno subito il rimborso in contanti o accrediteranno i soldi sulla sua carta di credito Ho capito, ma oltre a questa copia che cosa dovrai portare? Il passaporto e il biglietto aereo Grazie, lei è molto gentile Il Duty Free come devo fare? La prego di compilare questo modulo Ecco fatto Porti questa copia all'ufficio del Duty Free, al centro o all'aeroporto Le faranno subito il rimborso in contanti o accrediteranno i soldi sulla sua carta di credito Ho capito Ma oltre a questa copia, che cosa dovrai portare? Il passaporto e il biglietto aereo Grazie, lei è molto gentile Lezione 23 Per il Duty Free come devo fare? Per il Duty Free come devo fare? La prego di compilare questo modulo Ecco fatto Porti questa copia all'ufficio del Duty Free, al centro o all'aeroporto Le faranno subito il rimborso in contanti o accrediteranno i soldi sulla sua carta di credito Ho capito Ma oltre a questa copia, che cosa dovrai portare? Il passaporto e il biglietto aereo Grazie, lei è molto gentile Come devo fare? La prego di compilare questo modulo Ecco fatto Porti questa copia all'ufficio del Duty Free, al centro o all'aeroporto Le faranno subito il rimborso in contanti o accrediteranno i soldi sulla sua carta di credito Ho capito Ma oltre a questa copia, che cosa dovrai portare? Il passaporto e il biglietto aereo Grazie Lei è molto gentile